Ciao a tutti sono BOMF777 e benvenuti nella top 5 dei pecoopening di questa settimana Guardate con quale attrezzatura sto registrando col cellulare la parte iniziale perché Vabbè ho avuto dei problemi Quindi iniziamo col cellulare proprio davvero pro Guardate anche che figata Gran figata Comunque cosa vi dico? Vi dico come sempre di mettere mi piace a questo video E vi dico di suggerirmi in costa sotto nei commenti altri pecoopening successi durante questa settimana o la prossima che viene Quindi consigliatemeli anche dopo perché io poi li userò per fare i pecoopening la top 5 settimana prossima E quindi non devo dire nient'altro questo qua è solo l'intro Adesso beccatevi la top 5 dei pecoopening della settimana Però intanto giro ancora perché è molto figo No! 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 Oh shit boy! Oh snap! 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 Oh shit! Say what? Anyone starting, 2 starting, 3 G'day 4, 2, 1, 2, 3, 4 Oh sapuleta lo he visto No, 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 no! OJO! OJO! IGUAÍN VAMO! IGUAÍN Vamos! Himuaín, pipita! Ahi esta, se vino pipo ¿Cuánto vale? Pipita Iguail! in le ultimo sobres eh 250-250 eeeh PINITA 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 I don't want to be here anymore HAHA YAAAAAAH OH MY FUCKING GOD WHAT? OH MY FUCKING GOD LADS OH MY FUCKING GOD OH MY FUCKING GOD WHAT WHAT OH MY GOD Is this real? Is this fucking real? I'm fucking shaking Is this real? Oh my fucking god Oh my fucking god Yeah HAHAHAHA Matty Blitz a wooden spoon pack mate What? Ronaldo Ronaldo oder Messi Auf jeden Fall über 85 Are you kidding Elena Content If you want me to bring it out Is this real maybe I cannot get 좋 I cannot do We cannot I cannot IL YAPONANIO! IL YAPONANIO! OECHA! YA! ES NIGA YAPONANIO!